Alessandra Salvatore, 47 anni, avvocato penalista, membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico e oggi candidata nella lista del PD per Roberto Gravina, Presidente. Benvenuta. Grazie, grazie a voi per questa opportunità. Dall'ultima volta che ci siamo visti a settembre dello scorso anno è cambiato il quadro politico nazionale. C'è la destra al governo, si è chiusa una pagina di storia con la morta di Berlusconi, c'è la possibilità che la sinistra non riesca a ritrovare un'unità per sfidare questo centro-destra. Qual è il suo giudizio? Io direi la sinistra e il centro-sinistra l'unità l'ha ritrovata, l'ha ritrovata proprio in occasione di questa competizione elettorale ed è un'occasione unica per il Molise. È necessario che i cittadini molisani facciano uno scatto d'orgoglio e diano fiducia ad una coalizione che si presenta unita e che vuole cambiare perché ha la possibilità di farlo, vuole cambiare il destino di questa regione. Un'unità che però non tutti i membri del PD ritengono utile, la piazza di Roma dove Grillo ha parlato di passamontagna e di brigate a scossola alla più moderata. Grillo in realtà credo che, lui è un comico, un saltimbanco, fa il suo lavoro così. Però è il garante del vostro alleato. Mi pare che l'intervento fosse molto critico anche rispetto a Giuseppe Conte, anche rispetto a un percorso di maturazione politica che il Movimento 5 Stelle sta provando a fare. Ha parlato, io credo, agli irriducibili bambini della politica 5 Stelle, che sono, credo, ormai la minoranza. Eppure quei voti sono necessari per arrivare alla maggioranza in Molise? Sono necessari i voti di tutti quanti i cittadini molisani consapevoli che vogliono davvero dare l'opportunità alle bambine e ai bambini di questa regione di avere un futuro qui. A loro parliamo, a tutti loro, e quindi anche agli elettori che tendenzialmente votano a destra. Perché il PD ha scelto un esponente del Movimento 5 Stelle come candidato presidente? Il tavolo regionale del PD e il tavolo regionale del centro-sinistra ha ritenuto di dare l'ok su una candidatura che potesse essere di unità, sulla base di un'idea che è condivisibile. Dopo l'esperienza delle politiche, ovviamente pensare di andare divisi era pura follia, soprattutto rispetto a questo centro-destra. Quindi si è scelta una figura di un amministratore che poi è la stessa scelta che hanno fatto dall'altra parte. Sindaco contro sindaco. È un derby? No, non è un derby. Io direi che è una partita... Sì, forse la metafora calcistica ci sta, però è qualcosa di più di un derby. Davvero decidiamo del futuro di questa regione. Quindi credo che la partita in gioco non sia soltanto il risultato finale, ma è la possibilità dei molisani di continuare a vivere qui, a vivere in maniera dignitosa nel rispetto dei diritti fondamentali. Oggi non è così. Se vince il centro-destra non sarà così, perché non ci sono le condizioni perché questo accada. Qual è l'elemento che offrite voi di differenza? Innanzitutto la classe dirigente non è una classe dirigente in questo momento. Chi si candida nel centro-sinistra ha dei percorsi rispetto ai quali, confrontandoli con quelli del centro-destra, sono percorsi in gran parte molto molto lontani dalla compaggia di centro-destra. L'elemento che fa la differenza oggi è che dall'altra parte, oltre ad esserci tutta la squadra uscente, quella che ci sta governando in questo momento, ci sono i maggiori azionisti della sanità privata. Quindi diciamo che quel conflitto di interessi, che è un elemento determinante anche rispetto alle scelte sulla sanità pubblica, è difficile che possano essere diverse da quelle che sono state negli ultimi anni. Il PD però ha come segretario una persona che con Patriciello ci ha governato. In quella maggioranza Patriciello aveva soltanto un consigliere regionale, se non ricordo male. Poi le dinamiche che si sono innescate sulla sanità pubblica, sulle scelte che ha compiuto il commissario ad acta, che era il governatore Frattura, hanno completamente tradito quello che era il programma di centro-sinistra sulla sanità in particolar modo. Quindi direi che rispetto a quella situazione non c'è paragone. Lei è la prima candidata del PD che fa un'autocritica così netta. Mi sembra giusto sottolinearlo. Senta, dal punto di vista invece delle polemiche che sono scaturite dalla sentenza della Corte Costituzionale in riferimento alla legge di bilancio del 2022, perché la vostra compagine non ha puntato molto i riflettori su questo evento? Io credo che ci siano stati invece commenti ufficiali da parte della delegazione regionale. Quindi si è data la risalto ad una situazione che è più unica che rara, anche rispetto al fatto che questa legislatura regionale non soltanto non ha prodotto quasi nulla in termini di atti normativi, ma quei pochi che sono stati prodotti sono in gran parte caduti sotto la scuola della Corte Costituzionale, che addirittura in questo caso ha stigmatizzato anche proprio la modalità di stesura delle norme incomprensibili. Quindi direi che vantano un record che è davvero unico, vorremmo che questi record rimanessero sui libri di storia. Speriamo che il futuro sia diverso. Senta, rispetto al futuro, quello del Molise è in bidico rispetto all'autonomia. A suo avviso dobbiamo continuare a lottare per mantenerla? Dobbiamo continuare a lottare contro l'autonomia differenziata con ogni mezzo illecito. Contro l'autonomia differenziata e per l'autonomia regionale? Per l'autonomia regionale assolutamente sì, l'autonomia regionale significa servizi, significano presidi sul territorio. Non abbiamo bisogno di perdere anche quei pochi presidi che ancora ci sono. Da avvocato penso ad esempio alla Corte d'Appello, ma potrei fare un elenco enorme. Stiamo perdendo tutto ciò che rappresenta l'istituzione e la vicinanza al cittadino. Perdere la regione significherebbe questo. Ma il costo dell'apparato politico e pubblico rispetto alla ricchezza che produciamo alla fine non ci mette nelle condizioni di avere l'autonomia ma senza i servizi? Ma io direi che vada ribaltato il discorso. L'autonomia va conservata e occorre però una classe dirigente che sia all'altezza di questa autonomia su questo che occorre lavorare e su cui i cittadini devono interrogarsi. Lei ha parlato di sanità. Qual è a suo avviso la ricetta per ribaltare questa situazione? Innanzitutto utilizzare le tantissime risorse che sono state già messe a disposizione e che verranno messe a disposizione. Il PNRR oltre agli altri fondi europei strutturali è una fonte, mi viene da dire, inesauribile perché una tale mole di denaro che arriva dall'Europa non c'è mai stata soprattutto sulla scorta di quella che è la maturazione dell'idea di un'Europa che lavori sui temi sociali, sulle persone. Lo dice a ragion veduta, visto anche il suo ruolo attuale come esperta giuridica del PNRR nella compagine di missione. Sì, avevo vinto il concorso come esperta giuridica sul PNRR e quindi faccio parte dell'unità di missione che si occupa di materia ambientale. Quindi sì, lo dico con cognizione di causa, le risorse sono tante, la regione molise dovrebbe poter accedere a tutti quei bandi e a quegli avvisi che sono destinati a regioni ed enti locali. E con quali dirigenti? L'apparato regionale amministrativo ha una serie di figure anche di spessore sul piano tecnico amministrativo quindi se ben organizzata la regione molise può competere con le altre. Senta, quali sono secondo lei le tre priorità che dovreste affrontare immediatamente una volta al governo se i molisani dovessero scegliere voi? Sanità, intendo sanità pubblica quindi tornare ad investire in maniera massiccia sulla sanità pubblica dai pronto soccorso ai presidi ospedalieri per arrivare poi a tutte le altre esigenze in tema di servizi sanitari. Ma gli ospedali in primis e pronto soccorso in primis le infrastrutture ovviamente perché siamo lontanissimi anni luce dai centri più grandi oltre a quella che è l'infrastrutturazione interna la regione molise che sta crollando sotto le piogge battenti negli ultimi giorni e poi ovviamente le opportunità di lavoro legate all'ambiente legate alla tutela del nostro noi abbiamo delle opportunità enormi risorse da investire rispetto al distesso idrogeologico insomma sono tante le opportunità per tutelare ambiente e territorio e creare occupazione vanno sfruttate. Senta, la polemica dell'ultimo giorno sono state le dimissioni del vice segretario regionale del PD Maria Chimisso come giudica questa scelta a pochi giorni dal voto? Guardi io non giudico perché essendo avvocato normalmente non giudico quello lo fanno altri non ho idea di quali sia la motivazione una valutazione politica da dirigente nazionale sicuramente dimissioni fatte in questo momento credo che siano un messaggio ho mandato a qualcuno ma non ho ancora compreso con chi spero che la ex vice segretaria ci dica il perché di questo gesto Lei ha sostenuto Elislein pensa che sia la persona giusta anche se queste sono settimane complicate per il nuovo segretario del PD Sono settimane complicate ma io penso che Elislein abbia tutte quante le energie mentali fisiche e anche di prospettiva per poter affrontare difficoltà che erano prevedibili è la novità e adesso si trova a gestire un partito che in larga parte è ancora molto molto strutturato rispetto a quello che era il passato Verrà in Molise per la campagna elettorale? Sì sì dovrebbe venire in Molise e sappiamo che anche la sua presenza darà uno slancio diverso alla campagna elettorale Sarà al suo fianco? Ah certo sono in direzione nazionale l'ho sostenuta dal primo giorno Perché i molisani dovrebbero votare Salvatore? Perché Salvatore con l'entusiasmo anche con l'energia con la voglia di cambiare può dare un contributo ad una terra che è la sua terra è la mia terra il Molise e vorrei che fosse un luogo dove poter scegliere di restare a vivere io l'ho fatto con grande sacrificio e vorrei che lo potessero fare tutti quelli che hanno la voglia di restare a lavorare per questa regione Un bocca al lupo Grazie vive il lupo